Benvenuti sul canale Gossip Tiva la tua fonte principale di scope pettegolezzi sui reality show, dove le emozioni sono sempre al culmine. Massimiliano Varrese si trova in uno stato di ansia, desideroso di scoprire risposte che potrebbero gettare una luce diversa sulla sua storia d'amore. La giovane ed enigmatica Heidi Bacci ha improvvisamente abbandonato il grande fratello, ma prima di farlo, ha scritto un messaggio carico di sincerità per i suoi compagni di avventura. Quali pensieri e motivazioni si celano dietro la decisione di Heidi Bacci di lasciare il grande fratello? Condividete le vostre opinioni nella sezione dei commenti. Nella sua epistola, ha svelato i motivi che l'hanno spinta a una partenza così inaspettata e ha condiviso le emozioni che hanno agitato il suo mondo. La giovane era titubante, scossa e confusa, mentre la sua famiglia seguiva con preoccupazione questi momenti cruciali. Senza entrare nei dettagli delle questioni familiari, Heidi ha dedicato parole di affetto a suo padre, cercando di alleggerire il peso che lui portava. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e iscriverti al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti sul grande fratello e sui Weahwadishow. Nel frattempo, Barrese si trova in una situazione scomoda. Il flirt con Heidi sembrava essere una storia d'amore destinata a sbocciare, ma il messaggio di addio di Heidi ha gettato ombre inattese sulla loro relazione. L'incertezza ha generato una serie di interrogativi, e Alfonso Signorini ha chiesto a Barrese il motivo per cui Heidi non abbia menzionato un saluto speciale per lui nella sua lettera. Il mistero si infittisce, e il cuore di Barrese continua a bruciare intensamente. Se ti appassiona questa storia, metti un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità sul grande fratello e sui Weahwadishow. Il confronto fuori dalle mura del grande fratello è ormai inevitabile. Anche se Barrese ammette di provare forti sentimenti, Heidi ha compiuto una scelta coraggiosa. Il futuro di questa relazione è avvolto nell'incertezza, e le speranze rimangono legate all'orizzonte. Cosa riserva il futuro per questi due cuori spezzati? Rimanete sintonizzati mentre seguiamo da vicino questa travagliata storia d'amore e vi aggiorniamo su tutti gli sviluppi. Non dimenticate di lasciare un like se siete pronti a svelare i segreti del grande fratello.